Il carro funebre con la salma di Silvio Berlusconi ha lasciato questo pomeriggio alle 14 Villa San Martino ad Arcore, dove da due giorni i sostenitori e simpatizzanti dell'ex cavaliere depongono nei pressi del recinto fiori, bandiere di Forza Italia, del Milan o del Monza. Dopo aver attraversato le vie del centro di Milano, il carro funebre ha fatto ingresso in una piazza duomo gremita di persone, almeno 10.000 secondo le stime, alcune giunte alle prime luci del giorno per prendere posto e seguire i funerali di Stato dai due maxischermi installati in piazza. A me ha trasmesso l'amore per il lavoro, perché mi ha fatto capire che lavorando, impegnandosi si può arrivare a tutto e lui ne è l'esempio migliore. Lo ha ammirato sempre? Sempre, da sempre. E oggi ha deciso di essere qui? Sì, sì, dalle sette e mezza che sono qua. Il Monza si è salvato prima e ha fatto un gran campionato poi proprio per questo. Lo spirito di Silvio Berlusconi era nella squadra. Un presidente che fa vincere 5 Champions League, 8 scudetti, veramente sono tantissimi. 2.300 le persone autorizzate a fare ingresso in duomo, con un protocollo delle misure di sicurezza estremamente rigido. Tra le prime file, ovviamente i figli, i parenti e gli amici stretti, compresa la compagna di Berlusconi, Marta Fascina, e più defilata, la seconda ex moglie, Veronica Lario. Numerosi rappresentanti delle istituzioni e della politica, a partire dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, la premier, Giorgia Meloni, e i presidenti delle due camere, Ignazio Larussa e Lorenzo Fontana. Tra gli avversari politici, la segretaria del Partito Democratico, Ellie Schlein, Matteo Renzi e Carlo Calenda per il terzo polo, mentre era assente il presidente del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte. Presenti, tra gli altri, anche gli ex premier, Mario Draghi e Mario Monti. Dall'estero sono giunti il premier ungherese, Viktor Orban, il presidente dell'Iraq, Abdul Latif Rashid, e l'emiro del Qatar, Tamim bin Hamad. Lungo e scrosciante, l'applauso che ha accompagnato il feretro all'interno della cattedrale, fino ai piedi dell'altare. L'arcivescovo di Milano, Mario Delpini, che ha celebrato le esequie, ha sottolineato durante l'omelia che oggi si celebra l'uomo, al di là dei suoi ruoli, un uomo che ora incontra Dio. Dopo la cerimonia, la salma è stata trasferita nuovamente nella residenza di Arcore, poi sarà cremata e le ceneri saranno trasferite nuovamente nel mausoleo costruito da Berlusconi a Villa San Martino.